E ragazzi, come va? Io sono Feriniki E io sono Steph, e oggi giochiamo a Astronir E siamo tornati nel nostro pianeta alieno Il primo video non ha fatto troppe visualizzazioni, ma nei commenti siete totalmente impazziti Quindi abbiamo deciso di continuarlo lo stesso Esattamente, anche perché lo adoriamo pure noi, quindi saremo pochi ma buoni Hashtag pochi ma buoni Quindi, ragazzi, dateci una mano con i likes, commentate tantissimo questa serie Così noi la continuiamo, anche se non fa troppe views, perché è davvero una figata questo gioco Merita di essere giocato, lo vogliamo continuare nel canale E quindi andiamo avanti con pochi ma buoni Allora, siamo qua, siamo pieni di risorse depositate, abbiamo un sacco di organico, una roba incredibile Secondo me, io nella teoria, qualcosa si è decomposto ed è diventato organico Perché io non ricordo che ne avessimo così tanto So che cos'è? Il tuo cervello Bellissima, questa battuta Rida anche il mio personaggio Come si facevano le emotiche? Con uno, due, tre Possiamo iniziare Allora, nei commenti ci hanno chiesto tutti di andare ad esplorare le caverne Ovviamente, a farci mangiare da una bella pianta Diretti così I pochi che conoscevano il gioco dicono che comunque nelle caverne si trovano molti più materiali Tutti gli altri sono curiosi di vedere le caverne per vedere cosa c'è Eppure noi lo siamo Noi lo siamo, quindi andiamo Dai, andiamo lì, andiamo lì Proviamo, proviamo, dai Ma le che vada abbiamo sprecato un po' di paletti Esatto Titer, titer Sai che forse mi sarei dovuto prendere almeno un composto prima di andare? Dici? Aspetta, dai, faccio al volo Che in effetti Facciamo le cose per bene! Se finiamo i paletti poi non è proprio il massimo, sinceramente Eh no, assolutamente Sì, guarda che sacco di avere una caverna Andiamo, andiamo, andiamo Ovviamente continuiamo sempre con i paletti Perché così possiamo starci quanto vogliamo Quindi questo è sempre importante Aspetta che crafto un titer Ho l'ansia Perché? Perché ho paura di entrare in quella caverna Eh, ci sono cose strane Eh no, allora io le piante, le piante velenose non le ho mai viste Perché non sono ancora entrate nella caverna Quindi un po' mi mette ansia, capito? Non sapere cosa troverò Guarda, io le ho viste ma non le ho capite Quindi più o meno siamo lì A me si è totalmente bloccato Ok, rieccomi Ah, ecco ti, ecco ti Un freeze screen da due ore e mezzo Cos'è questa roba bianca? Cos'è? È stranissima Ricerca sconosciuta Aspetta, aspetta, aspetta Prendilo, prendilo Vai, preso Vai, 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 vai Ci portiamo subito a casa questo Sì, 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 ma assolutamente Alla grande Ovviamente per scendere nella caverna Per non prendere danni da caduta Dobbiamo Modellare il terreno Modellare il terreno E poi scendere Quindi dobbiamo anche essere bravi in quello assolutamente E facciamo schifo a modellare il terreno No, siamo bravissimi Ma io faccio davvero schifo Facciamo una scultura Che da sola ho provato a fare un po' di cose Ok Ho capito un po' di passaggi Cioè ho fatto un disastro È davvero difficile Condensatore combustibile Ok Si crafta? Fammi controllare subito Condensatore combustibile No Mi sa tanto che è un'altra cosa Che si può costruire qua di piattaforma Te lo dico subito Perché tanto abbiamo questa che non è fatta Condensatore combustibile E chissà a che cosa servirà Non ne ho la più pavide Chiede sempre rame mi pare Sempre rame Sì, sì, sì Ok, lasciamo così Secondo te da qui ci si può buttare Dobbiamo fare più Non rischiamo per favore Non voglio rischiare Allora Allora uno dei due che se no facciamo un disastro Fai solo tu Così Ok E poi scendiamo Ok Prendi lo stesso un po' di danno E vabbè perché è altissimo Fammi un po' di terreno Ci siamo dimenticati il titer No Aspetta Ok Bellissimo Vabbè attaccato Ma non me lo fai un po' di terreno? Mi puoi buttare? Ci provo Dai Così Vai Oh che bello Dimmi se prendi Vabbè ci provo No così no Da me è scattato tantissimo No così no era perfetto Allora Oh ma è stra pieno di cose Cioè da questa parte Calma Calma Qua non c'è nulla Quindi va bene Qui a destra È super buio È super buio Vabbè proviamo un po' verso qua Allora i paletti no Ah brava È giusto Mi stavo già dimenticando Anche perché almeno è utile per capire dove siamo già stati È già no Perché sto notando Ma poi fanno luce Eh ma poi sto notando che dietro è pieno di cunicoli Quindi rischiamo solamente di perderci Ok Almeno invece con i paletti capiamo che una zona l'abbiamo già visitata Mi sembra Guarda 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 Questo credo che sia una specie di mare Una roba del genere Di sicuro non ci buttiamo da qui per ora Io mi ci butto Ma no ma che fai? Vieni via Ma è bellissima Torna indietro che è bellissimo Ma guarda Cioè se guardi E ti muovi un po' con la telecamera Ma ci sono un sacco di cose strane Sì ok ma Dai partire buttandoci non è l'ideale Ah io mi sarei voluta buttare Esploriamo dove non ci buttiamo Qua c'è un materiale Ok Che materiale è? Non lo so adesso lo leggo Però c'è anche una pianta tossica C'è anche una pianta tossica Che ha provato a spararmi Oh mamma mia Oh mamma mia Dov'è? Si sta muovendo il gas Lo vedi? No non lo vedo io Guarda sto gas verde Ok appena scomparso Forse lo vedi solo tu Mi serve un composto Vieni Se lo butto lo vedi sì Sì Ok perfetto Allora me lo prendo E devo craftare un T-Tair Ok Allora praticamente c'è un materiale Che sembra delle specie di cose coralline rosse Ok Però c'è una pianta verde Che sputta un gas Che ti arriva piano piano addosso Ok qui a sinistra giusto Perché vedo subito la pianta Sì proviamo a girare largo Ok Facciamo così e vediamo Ma anche lì ce ne sono altre Lì di fronte Eh lo so ma guarda Lo vedi che qua Minerale d'alluminio Vieni qua ho visto una cosa Ma qua c'è l'alluminio Aspetta un attimo Sei pazza? No è pieno di cose No però mi ha dato l'atterite Questo Che cos'è? Guarda Uh un altro Fa la ricerca Sì è questo materiale che secondo te si può prendere Dammi un attimo Questo lo appoggio qua per ora Arriva 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 Che cos'è? Cerco di fare luce Attenta Che cos'è questa cosa? C'era un altro Ho preso qualcosa Lo vedi lo vedi? Ma è un altro cosa sconosciuto no? Sì Aspetta lo porto di nuovo lì C'è un altro Tre Vabbè Vabbè Abbiamo capito Ma l'altro pure qua Incredibile Incredibile Guarda tieni Grazie Vabbè li appoggio Perché tanto non è che ce li possiamo portare Allora per ora ferma così con quelli Ok Ok Qui non lo vedi questa roba rossa? No Stai scherzando? Guarda il mio schermo Eh non lo vedo Ok vabbè È solo per te Grazie Guarda quello è solo per te Grazie Almeno la puoi prendere tu Si chiama laterite Però se prima di prenderla Ok Ti dice minerale d'alluminio Quindi la mia idea È che se noi Lo smelter Esatto Se noi mettiamo nel fonditore Questa laterite Magari Si trasforma in alluminio Sicuramente sì Ha senso no? Certo che ha senso Abbiamo comunque l'alluminio Da vedere se riusciamo a sfruttarlo Quindi io non rischierei la morte E ci porterei a casa tutto questo No assolutamente Prenditene uno Certo certo che ne sto prendendo uno Non posso Riusciamo a salire? Sì però devi appoggiarlo E saltare E poi capito? Ce la faccio appoggiarlo su? Sì No prendimelo Prendimelo Cade Dov'è? Ok siamo così tornati a casa Abbiamo due ricerche da fare Corri 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 Adesso stai imparando Quanto è faticoso Portare qui così È pesantissimo E te l'ho detto di volta Sei super lento È una roba durissima Ce la faccio Ce la faccio Meno male che non è arrivata Nessuna tempesta comunque Meno male sì Ci è andata bene Allora Piazzo subito il coso di ricerca Vai È giorno Perché abbiamo bisogno Che si ricarichi questo coso Perché per farne due Mi sembra che sia giorno Abbiamo bisogno che si ricarichi Vediamo un attimino Cosa scopriamo Io c'è una cosa Che vorrei assolutamente scoprire I veicoli Quindi sto sperando in quello No E che cosa? Stoccaggio Che cos'è lo stoccaggio? Secondo me Lo stoccaggio si crafta Cosa può essere lo stoccaggio? Non lo so Secondo te Allora vediamo un pochettino Vediamolo esteticamente Ricerca Fonditore Spazio veicolo Pietaforma di scambio Stampante Condensato e combustibile Non è neanche qua E allora che cos'è lo stoccaggio? Non lo so Eh Non ne ho la minima idea Non ne ho la minima idea Tempesta o cosa? O buio? No tempesta Oh che cavolo Tu hai materiali utili? Eh no Ok Mettiti comunque qua davanti Così Ci provo? Esatto Ci provo e mi guarderai morire di nuovo Ti odiamo tempesta Noi mentre clicca qui Guarda se tu vedi lo stoccaggio Proviamo subito questo No? Sì Sì assolutamente Mettiamo un organico qua Così c'è anche l'energia Dopodiché mettiamo Ok Vedi 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 che funziona Vado? Alluminio Dove? Lo vedi? In alto in alto Te lo crei in alto L'hai visto? Perfetto Perfetto Continuo Nel crafting abbiamo qualcosa Che dipende dall'alluminio Il segnavento Che non so se ci serve Non credo La batteria farebbe comodo Ma è con litio Il titanio Vabbè non ce l'abbiamo Rame No Nel crafting abbiamo solo Il segnavento Che secondo me non è indispensabile Quindi Pensiamo a farci l'alluminio Per delle costruzioni qua Sì sì Iniziamo a espanderci Anche a livello di costruzioni Mi sembra giustissimo Sì 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 Facciamo la piattaforma di scambio? Eh sì Vero Sì mi sembra giusto Sono molto curiosa Ok Allora prendi tu l'altro alluminio Ok Piazziamolo qua Vai Ok Cosa servirà mai Questa Allora Resa zero Tu praticamente Metti un materiale Cosa ne so Tu vuoi dare Un composto Allora Perché non mi fai più Prendere i materiali Che abbiamo Vabbè tipo Cosa ne so Quella resina Metti la resina Ok Credo Promo a spostare le frecce Aspetta Dammelo sto facendo Ah no Ok Dobbiamo metterli sopra Credo Tu praticamente metti Della roba lì Quella che vuoi scambiare E ti dice Quanto dei vari materiali Ti può dare Ok Sì 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 Quindi se noi arriviamo Ad abbastanza valore Provo a continuare a mettere resina Magari riusciamo a farci dare Uno di rame Per costruire Dato che abbiamo già Uno di rame Un'altra piattaforma Sto guardando che cos'è Uno di alluminio Uno di rame Vai 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 Sì 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 Dai mi sembra giusto Almeno la proviamo Guarda No vabbè Parto per lo spazio Ma torna E suppongo che torni con rame Capito Ehi Ehi Il nostro rame Dov'è Scusa Quanto ci metti Sei facendo preoccupare Ci hanno rubato Tutta la resina Ok È arrivato Dov'è Lo vedi No Qui è tornata E ha uno di rame No non la vedevo Ok perfetto Però in questo momento Non avendo la resina Non possiamo costruire La nuova piattaforma Quindi non possiamo usare il rame Per fare quello che volevamo Sei una persona terribile L'hai sprecata tutta Sì L'hai sprecata tutta Ce la siamo giocata male Vediamo cosa ci dà questa volta Per di più Volevo anche con Ci serve resina Ci serve assolutamente resina Andiamo a prenderci anche un po' di resina Cosa? Cosa ci ha dato? Cosa ci ha dato il titanio? Ma come? Sì Incredibile Non ci credo Invece che essere una cosa da ricerca L'ha proprio aperto E c'era il titanio dentro E quindi allora è possibile Trovere anche singoli materiali Sì Sì Ma cosa serviva il titanio? Per il serbatoio Lo provo a fare? Sì dai Ormai ci proviamo Ok Mi sembra giusto Vado Vediamo cosa ci servirà Cos'è un serbatoio? Forse è un serbatoio di ossigeno? Sì È un serbatoio di ossigeno Bello Quindi noi possiamo creare i serbatoi Per avere ossigeno extra E possiamo creare le batterie Per avere energia extra Però rinuncia degli spazi dell'inventario Perché adesso a me questo occupa uno spazio costante Che figata No è una figata Che figata Secondo me uno va a cercare un po' di resina E non torna in caverna Brava Brava Mi piace Allora vado a cercare Dai Ok ci vediamo dopo Ferenichi Ciao Stammi bene Morirò Addio Ma che tristezza separarci Però è la cosa migliore Dai Assolutamente Almeno ho capito Riduciamo i tempi Allora qui sono finiti però i paletti C'è un materiale strano Ok Ma sta subito dopo quelle piante velenose Eh vabbè Sono dei cristalli diversi da quelli che io ho già preso Ok Sono indeciso se rischiare In corsetta Steph Va dritto Passa davanti al veleno No vabbè erano tre piante diverse Eh vabbè Allora Devo andare molto lontano Aspettare un po' E vedere Ok Dimmi che non ce ne sono altre A che punto sei? Allora Ho trovato un sacco di piante No tu dovevi venire Eh vabbè Ti dico solo che c'è la malachite La laterite Lol E poi c'è un'altra che ancora non sono riuscita a leggere che cos'è Ma che zi ma tutte queste cose andremo a trovare Idrazina Il combustibile per i veicoli Cerco di prenderlo Vai Uno l'ho preso Sì Cerco di arrivare Almeno a due Fai il tifo per me Ok Con quant'è Prendo solo due di idrazina Ok Perché comunque stavo pensando Che ci serve per i veicoli Quindi non è urgente Mi dedicherò di più alla malachite Che non sappiamo che cosa diventa Ah assolutamente La bruciamo Sì 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 La laterite non ne prendo Sei d'accordo Tanto alluminio mi è sembrato che Quello che ci serviva L'abbiamo fatto no? Credo di sì Credo di sì Perché serviva appunto per le piattaforme Quindi solo per quella Adesso dobbiamo vedere un pochettino Ah Ho finito l'energia Oh no E sto finendo anche l'ossigeno Non è possibile Allora Energia però Ne vedo un sacco qui sopra E anche ossigeno Vediamo se riesco a prendere Un po' di ossigeno Ok Ma tu ne hai trovato resina Ne è mentre? Sì 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 Ne sto trovando Sto ascoltando te Ho scavato talmente tanto Che ho creato un'altra caverna Cioè mi sono ricongiunta Con un'altra caverna E la lascio Perché almeno questa potrebbe essere Capito Da esplorare in futuro Lascio il buco Così mi ricordo Dove è Capito Ha senso Ha senso Ha senso Assolutamente Ok Allora Quanta malachite Abbiamo preso Uno Due E sono delle stelline Sono troppo belline Interessante Interessante Allora Prendo Un altro pochettino Di energia In modo tale Da essere bello carico Poi mi riprendo Un po' di ossigeno E a questo punto L'inventario Lo riempio di ratterite Che è l'unico materiale Che c'è rimasto Da prendere Quale delle due stettiche Si era aperta? Quella L'altra Questa? No l'altra Questa? Vero perché infatti Guarda Vedete che ha un taglietto Esatto Sembra fatta apposta Per aprirsi No sono curiosa Anch'io di vedere Se ci dà altri materiali Quindi direi di provare Prima con quella Sì assolutamente Assolutamente Allora quindi Forza Ti aspetto Ok No non c'è Non ci credo Che ti ha dato? Il litio Eh vabbè Ma che bello Con il litio possiamo fare Le batterie Per avere Più energia Allora Allora Fai la batteria Così vediamo anche le batterie Faccio la batteria Così oggi stiamo scoprendo Tantissime cose Ma io lo so cos'è Guarda praticamente Tu crei la batteria Adesso ti faccio vedere Ok Ed è uguale identica A quello dell'ossigeno Ma con l'energia Fondiamo Ok Che succederà? Forse rame 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 Finalmente Quindi Siamo sempre alla ricerca di rame Ma la kite uguale rame E la trite Uguale alluminio La terite La trite Non me lo ricordo La terite La terite Ok Ok Perfetto Dicevo Oggi stiamo scoprendo davvero tante cose del crafting Stiamo proprio entrando nel vivo nel gioco Stiamo cercando di capire cosa tutto si può fare Davvero una figata È sempre più bello Voglio fare infatti un recap Praticamente funziona così La terite ci dà l'alluminio La malachite ci dà il rame L'organico che prendiamo dai fiori Ci dà il con Il Organico Che utilizziamo per dare energia costante al fonditore Con il quale appunto ci facciamo il vario rame e alluminio Con la piattaforma di scambio ci possiamo procurare materiali Che magari non stiamo riuscendo a trovare Perché in zona non ci sono Ok Con il sistema di ricerca o scopriamo nuove cose O ci facciamo materiali rari Sta andando alla grande Sta andando alla grande Sta andando alla grande Allora io direi però che è arrivato anche il momento di fare una nuova piattaforma Stavo aspettando che la facessi Allora poi abbiamo anche quella di scambio Cioè stiamo diventando davvero con una base incredibile Vai Costruisci Allora non so da che parte farla Ti stavo aspettando per quello Qua dici Guarda qua c'è un po' di spazio Allora uno di resina Guarda quanta resina c'è nell'inventario Ne ho preso davvero tanto per andare su sicuro Guardatela Eh vabbè Sì sì Lo so un po' esagerato però Mi piace così Meglio esagerare che puoi arrivare qui e non averci Ok Cosa costruiamo? Non ne ho la più pallida Allora la stampante ce l'abbiamo? Ehm No non l'abbiamo fatta per fare quella dello scambio Potrebbe essere un'idea Condensatore combustibile non mi sembra utile Per ora dico La ricerca ce l'abbiamo Il fonditore ce l'abbiamo Spazio veicolo Secondo me aspettiamo ancora un attimino Pietaforma di scambio ce l'abbiamo? Vai di stampante 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 Che abbiamo appena fatto tramite la malachite Mi sa che ne abbiamo fatto proprio due Ok Vediamo quando si carica di energia se ci compare un tasto Esatto Vedi? Praticamente Aspetta Questo qua è un crafting migliorato del nostro craft Come le stampanti 3D insomma No un po' come minecraft che tu hai lo spazio da 4 per craftarti qualche piccola cosa da solo Poi fai la crafting table e puoi craftare di più La stampante è la stessa cosa Ah giusto Stoccaggio Tu hai composto? Eh sì Uno però vero? Eh sì Controllo se abbiamo il secondo ma non credo Stiamo accorto di Allora vado a cercarlo Vabbè Tocca sempre a me Grazie Vado a cercare il compost In questo momento abbiamo rame, idrazina e non abbiamo composto Non le aspetto e crafto il stoccaggio No non ci provare Lo sto già facendo Sei un disgraziato Sei una persona terribile Che cos'è? Meriti di morire su questo pianeta Devi morire Ho capito Mi dispiace devi morire Ho capito Guarda che figo È un magazzino Sì Tu lo piazzi in un posto da due e diventano otto posti Eh vabbè Possiamo mettere un sacco di risorse in base Facciamo Adesso metto tutto guarda No ho un'idea Fermo Che vuoi fare? Praticamente Qua che ci serve sempre l'organico Creiamo il magazzino dell'organico Sì A fianco al fonditore Capito? Facciamo le cose ordinate Giusto Ti piace? E allora quanti stoccaggi dovremmo fare? Eh tanti Però almeno siamo ordinati Vedi è così Abbiamo quattro organico Qua belli pronti comodi per il fonditore Certo certo Ed è più bellino dai È molto più carino Quindi lo stoccaggio è semplicemente una roba di backpack E allora sto pensando un attimino se c'era qualcosa di realmente utile Secondo me ci manca ancora uno dei crafting importanti Io ho questo presentimento Sì Sai che cos'è? Dimmi La casetta Eh quello sì Ma secondo te la dovremmo scoprire con la ricerca? Ho paura di sì perché Perché se non l'avremmo nessuna parte Ce l'avrebbe proposta con la stampante Esatto Vai In corsetta Credo in te Ce la puoi fare Stiamo soltanto rischiando di perdere una batteria in un serbatoio Esatto Ce la puoi fare Ma proprio in una maniera incredibile Altro ossigeno Fino a quando troviamo ossigeno Esatto Troviamo vita C'è speranza C'è speranza Perché c'è speranza C'è vita E potrei concludere Davvero continuo? Sì Dici? Sì Sicura? Hai trovato anche l'ossigeno Che vuoi di più? Cammina A me sembra pericolosissimo Devo essere sincero Dai davvero non c'è nulla Cos'è? Cos'è questa cosa? Guarda Vedi che si ragiona Sconosciuto ricerca Ed è stranissimo È come quello che abbiamo trovato la prima volta Il primo che abbiamo trovato era esattamente così Corro Esattamente così Corro Ci siamo Ci siamo Ci siamo Vediamo se scopriamo qualcosa di interessante Spero di sì Spero assolutamente di sì Ma ne abbiamo un altro da scoprire? Sì Te l'avevo posizionato io Hai ragione Ok allora facciamo prima questo Vediamo cosa ci dà questo Dopodichè aspettiamo che si ricarichi l'energia E vediamo cosa ci dà Ok sì come pensavamo Questo qua è appunto di ricerca E abbiamo scoperto Stiamo iniziando a capire Le celle di energia Non abbiamo idea Di come fare a costruire più di così Come facciamo? Se qualcuno lo sa nei commenti ragazzi Scrivetecelo perché è urgente Perché altrimenti non sappiamo come continuare A costruire le cose nella nostra base Comunque direi di fermarci così per questo episodio Siamo andati alla grande Secondo me nel prossimo episodio Azzardo a dire che almeno un veicolo lo facciamo Sì dai almeno uno Non so se riusciremo a fare il veicolo per proprio cambiare pianeta Secondo me magari quello è più da quarto episodio Però nel terzo episodio almeno un veicolo ce lo facciamo Assolutamente Sarà l'obiettivo Vorrei anche la casetta in modo tale da stare tranquilli Quando ci sono le tempeste Certo certo Però appunto ci dovete far sapere come risolvere questa storia qua Perché è davvero problematica Noi comunque cercheremo di vederlo da qualche video Assolutamente Come vi abbiamo detto ragazzi Supportate la serie se volete vederla avanti Ma comunque cercheremo di portarla avanti davvero Perché ci piace un sacco il gioco Ci piacciono i survival E ci sembra il caso di continuare a portarla E direi che ci possiamo fermare così Si è acceso il coso dei pannelli solari Oh E guarda come carica in fretta l'energia Oh allora si di giorno Si accende solo di giorno Giustamente Che bellino Giustamente Ragazzi di lasciare il video di lasciateci un bel like E' questa è la prima volta che vedete il nostro video Potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdere gli altri episodi Ciao alla prossima Ciao 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 a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti.